Il Governo ha messo a disposizione milioni e milioni di euro per assumere il personale per il Covid. Noi non abbiamo in Abruzzo nessun piano. È un fallimento totale del Dipartimento alla Salute della Regione Abruzzo. Piano vaccinale, gestione dell'emergenza sanitaria e medicina territoriale con a capo Leusca le unità speciali di continuità assistenziale. Le critiche dei consiglieri regionali del Partito Democratico non si limitano solo a fotografare il quadro della pandemia in atto, ma preludono a una richiesta di risposte da parte dell'esecutivo regionale, come sottolinea Silvio Paolucci, capogruppo del PD in Consiglio regionale. Intanto è una giunta in stato confusionale. Da un punto di vista della trasmissione dei dati saremmo assolutamente nella gestione possibile del virus e dall'altro lato invece di ieri sera il provvedimento che costringe Pescara, Montesilvano, Francavilla e Spoltore per esempio la zona arancione. In secondo luogo, oltre al tema dello screening, manca tutto il resto. È utile una fotografia al momento rispetto ovviamente alla diffusione del virus. Se poi tu hai 11.000 persone dentro casa, in quarantena e non hai servizi territoriali, allora tutto cade. Sotto la lente di ingrandimento ci sono anche Leusca. Questo è il punto. Noi abbiamo migliaia di persone in attesa di servizi sul territorio che non ci sono. Dovremmo avere 8 infermieri di famiglia ogni 50.000 abitanti, 210 solo nel caso del Covid per le famiglie. Non c'è nulla di tutto questo. Riusciamo a registrare tante lamentele dal territorio. Vogliamo conoscere il rendiconto delle attività dei servizi territoriali e del rafforzamento del Dipartimento della Prevenzione come i decreti legge. Non solo obbligano, ma per i quali hanno dato dei soldi alla Regione Abruzzo. Ci sarebbe una relazione trimestrale di queste attività. In Abruzzo non c'è nulla. Poi c'è il piano vaccinale. Piano vaccinale tra l'altro per il quale mancano infermieri vaccinatori. Noi abbiamo da vaccinare un milione di persone, il 70% della popolazione, con il richiamo, quindi siamo a 2 milioni di persone, entro il 30 di giugno. Abbiamo 100.000 persone oltre 80 anni, 300.000 tra 60 e 79 anni. Non c'è una sola persona anziana che sa dove potersi recare, quando e come. Qual è l'esercito dei vaccinatori? Quali sono i centri vaccinali? Ogni centro vaccinale tra personale e amministrativo, operatori sanitari e dirigenti medici richiede almeno 10 persone. Ogni centro vaccinale potrebbe fare da 100 a 150 vaccinazioni al giorno. Quindi occorre un vero e proprio esercito per fare 2 milioni di vaccini entro il 30 di giugno. Non c'è lo straccio di un programma in Regione Abruzzo.